ciao a tutti per un nuovo video oggi vi parlo dei datteis volume cartonato la costina la quarta di copartina con le nuove storie poi c'è il frontespizio bordo bello spizio poi c'è la terza pagina con le nuove storie nuove storie scritte che si vede al contrario nuove storie scritte la prima pagina ho scritto datei paperi alla cloche vi faccio vedere qualche qualche tavola all'interno poi c'è la seconda storia nel modello discordia prima tavola qualche tavola all'interno poi c'è gli anni d'oro la prima tavola qualche tavola all'interno della storia qui c'è un'altra storia benvenuti a valle tizia qua le prime tavole qualche tavola all'interno carta lucida io preferisco carta ruvida ma è sempre ben colorato poi c'è la farfalla gigante di paperopoli ho qualche tavola all'interno ho qualche tavola all'interno eccole poi c'è brividi al villaggio fantasma le prime tavole ho qualche tavola all'interno della storia qualche tavola all'interno della storia poi c'è un'interno della storia un'interno della storia qualche tavola ecco qua poi c'è la pietra della verità prime tavole qualche disegno all'interno della storia il drogo dei sogni all'interno per finire la quarta di copartina con tutte le storie volevo ringraziare il giovanni dioguardi che mi ha ispirato a fare questi video sono molto contento, lo seguo sempre voglio anche salutare Viper Comics i fumetti di Loris l'isola di carta e Manuel di 8 bit voglio dirvi se i miei video non sono proprio il top portate pazienza, sono i primi video che faccio spero che andando avanti li farò meglio comunque spero che siate contenti iscrivetevi al mio canale e al prossimo video ciao e arrivederci